Salurina Salerno con Boys, 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 si non è Boys, 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 ma anzi è Girls, Girls, Girls questa mattina perché qui con noi c'è Beasì! Con il suo sorriso, sì. Ci accende la luce in studio, guarda. Ecco, non so cosa ci rendono queste canzoni. Ci accende il cuore, canta con Beatrice, risplende il suo jingle, canta con Beatrice, risplende il suo jingle, che dura di più del suo intervento, lo vorrei sempre condare. Poi impazzisce a un certo punto. Potremmo tagliarla. No, perché c'è il tasto più bello. Fabio ascolta, è tempo di imparare, eccomi qua. Ciao, buongiorno Beasì! Buongiorno a tutti quanti! E allora, siamo qui, al nostro appuntamento del lunedì, con la comprensione del testo, per me da dire, come si faceva a scuola. La comprensione della generazione Z, attraverso, anzi, lo strumento della musica. Esattamente. Che anche alle sette e mezza del mattino, comunque, è un protagonista della vita, anche della genzetta. Sì. Ascoltare tanta musica? Eh beh, tantissima. Ok, meno male. Io poi, ad esempio, mi sveglio la mattina, mentre vengo qua, musica. Musica. Quindi già dalle sei. Già dalle sei, musica. Musica, esatto. Perfetto. Perfetto. E allora, questa mattina ci hai portato un'artista, non so di dove sia. È una cantautrice americana. Americana, ok. Si chiama Sabrina Carpenter. Ah, famosissima. La carpentiera. La carpentiera, l'irreprensibile carpentiera. Esatto. Come si fa a non conoscere. Conosciutissima da moltissimi giovani, soprattutto perché lei ha iniziato come attriciattola. Cioè, recitava in delle piccole serie per ragazzi, quelle che andavano su Nickelodeon, cose così. Poi ha scoperto che in realtà voleva… Cioè, una Selena Gomez che ha fatto un po' meno Selena Gomez. Molto più basso di Selena Gomez. Sì, sì, sì. A livello… Sì, sì, sì. Ma è per quello che ho visto che adesso, se sbaglio, ha fatto un video insieme all'attrice che fa mercoledì, mi sembra, forse. Se ha fatto un video… È di questa canzone qui che potremmo… Ah, vedi, vedi, vedi. Ah, vedi, 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 vedi. Ma allora cosa facciamo? Ci ascoltiamo prima la canzone e poi ce la racconti o puoi incontrare? Cosa vuoi fare? No, ascoltiamola. Ci ascoltiamo prima la canzone e poi ce la racconti? Sì. Va bene. Come si chiama la canzone? Taste. Taste. Sabrina? Carpeter. Carpeter. Quindi Sabrina la carpentiera con tasti, che sono il plurale dei tasti. Esatto. È il plurale del plurale dei tasti, va bene, ok. Alle 7.38 qui su Good Morning Milano, Crystal Radio, Sabrina Carpeter con Taste. Sabrina Carpenter, carpenter, carpentiera con Taste. Alle 7.41 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano. La risulta che sentite è quella di Bea Zee, che adesso ci dovrebbe, tecnicamente, così da contratto, raccontare e farci comprendere questa che credo sia una delle canzoni più banali che vi ho mai sentito nella storia della musica. Esattamente, esattamente. A livello di testo, profondità del testo, non è molto complesso. Ok, ma perché l'abbiamo ascoltata? Perché grazie, cioè, Sabrina Carpenter, che prima non era letteralmente nessuno, se l'erano dimenticata tutti, con questo nuovo album, di cui questa canzone fa parte, che si chiama Short and Sweet, che dovrebbe essere un po' il suo alter ego. Infatti lei ha visto delle foto molto alla Marilyn Monroe, capelli belli, voluminosi, tanto blush. Ok, blush. Lei è diventata proprio un'icona nel pop americano, perché trasmette questa idea, soprattutto alle ragazze, di essere molto a proprio agio nel parlare di sessualità, anche propria, cioè nel senso di parlare liberamente di ragazzo che ti piace, ragazzo che ti sei portata a letto, ragazzo che vuoi farci le tue cose, cose sconce a livello sessuale. Cosa che noi maschietti facciamo da sempre. Sì, però per noi ragazzi... Infatti, infatti, vedi, sei se sono per fine, è un po' diverso. Esatto. E poi porta questa ventata, soprattutto sia alle ragazzine, di una sorta di autostima, cioè una sorta di essere... Sono bella, sono fantastica, posso fare quello che voglio perché sono... Tutto questo con una canzone completamente inutile. Una canzone che in realtà non è troppo inutile, perché fa riferimento a un aneddoto di vita reale della cantautrice. Infatti, questa canzone fa riferimento ad una relazione passata che lei ha avuto con un altro cantante, non so se conosci, Shawn Mendes, che andava a botto. Era uno di quelli che iniziava le canzoni dicendo il suo nome. Shawn Mendes faceva così. No, non è lui. Non è lui, non è assolutamente lui. È tipo sull'onda di Justin Bieber, quelle icone soprattutto per le ragazzine che fanno un po' pop. Stavo guardando infatti, la Carpent era del 99. Ah, 25 anni. E Camilla Cabello, che è quella delle Fifth Harmony. Sì, questa è la conosco. In pratica lei stava con questo Shawn Mendes, poi si sono mollati. Un belloccio canadese. Esatto. Questo belloccio canadese si è messo con Camilla Cabello e a quanto pare a Sabrina Carpenter non andava tanto bene, anche se si erano mollati. Infatti il video di questa canzone è da vedere perché è bellissimo. Ci sono un sacco di riferimenti. Quello con Gianna Ortega? Con Gianna Ortega. Ci sono un sacco di riferimenti alla famiglia Adams. Ah, ok. C'è un riferimento a quel film con Mary Streep che si chiama Death Becomes Her. Non so il titolo italiano. La morte ti fa bella. Dove lei appunto, c'è proprio una scena dove lei ammazza con il fucile dell'amante. Ok. La morte ti fa bella. replicata in questo bellissimo. Ci sono loro due che si ammazzano tutta la durata del videoclip. Ok. Poi posso spoilerare. Sì, tanto è di un videoclip. Di un minio pubblico. Non c'è bisogno di abbonamento a Netflix o Disney. E poi in realtà vengono accecate entrambe da questo senso di vendette e odio l'una per l'altra che ammazzano il tipo. Ah. Ammazzano il fidanzo. Quindi il mio nemico e il mio miglior amico poi alla fine diventa. Una sorta, sì. Perché abbiamo un nemico in comune. Eh, esatto, esatto. Quindi questo a me era piaciuto moltissimo soprattutto per il videoclip e poi per un po' questo senso che lei vuole dare di va bene adesso sta con te ma comunque il taste che avrà per sempre è il mio perché io sono venuta prima di te. Questa cosa un po' orgogliosa, capito? Capito, sì. Che a volte si ha sui propri ex. Non so se anche tu la... No, non mi capita, mi spiace. Mi spiace una cosa più da giovani. Non lo so, non lo so. Anche i cani quando fanno la pipì negli angoli lasciano il proprio taste. È una cosa un po' proprio manifesta. È quello, infatti, mi viene più bene quello. Cioè dice ti ho lasciato il mio odore addosso, il mio sapore addosso. Eh, infatti nel testo lei dice chissà come mai ti fa quelle battute che fanno così ridere, chissà da chi le ha imparate secondo te, da chi le ha imparate. Ah, pure, capito, capito. Ma le due sono, quelle reali, non nel videoclip, le due reali, cioè la Carpenter e Camilla Camillo sono diventate amiche adesso oppure si odiano la follia. Quindi ha un po' anche dissing questa canzone, un po'. Sì, 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 un po' quella roba lì. Infatti Camilla Cabello ha fatto, stava facendo una performance e doveva dire una frase dove c'era la parola taste, ok? Non ha detto la parola, cioè ha schippato la parola, non l'ha detta proprio. Non si può neanche più nominare la parola taste. Non l'ha detta perché faceva riferimento, non voleva evidentemente fare riferimento a… E ovviamente non dicendola ha fatto più riferimento. Esatto, perché esplosa questa scena dove lei sta cantando e poi… Cos'è? Ha fatto zitta, sì. Se fai il mimo in radio non ti sento. Eh, lo so, però c'è la diretta. Ah, ok, allora, quindi andate a vedere la diretta video, così capite. YouTube, sito, tutto quanto. Sembra quasi che ci sia così affezionata, quasi perché lo fai tutto quella roba lì, no? Sembra quasi che perché, se non lo sapete, ma appunto dietro a tutto quello che è YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, LinkedIn e tutto, c'è la buona Ginevra che è lì che prende i pezzi e incolla… No, esatto, grazie a Ginevra che… Tagli e cucci di Ginevra, ma poi c'è la bellissima Bea che insomma si mette lì e questo va lì, questo va lì, questo… Io dico, se avete voglia… Ah, ok, senza pressione, no, pensavo fosse pressione per te, nel senso, no? No, no, per loro. Senza pressione, però se non andate non ascoltateci più. Eh, fatti. Non siamo più vostri amici, facciamo anche noi, non diciamo più il vostro nome come fa appunto Sabrina Carpeter con la Cabello, che… Vabbè, comunque… Un po' di gossi, un po' di gossi, va bene. La cosa interessante è che appunto una delle canzoni più banali e inutili della storia della musica, secondo me, in realtà vedi, sotto, se basta andare a parlarci con questi ragazzi della generazione Z, si scopre che invece c'è molto di più e che quindi può anche ispirare, come piace molto dire agli americani, ad esempio le ragazzine che insomma un po' più di indipendenza la cercano e insomma giustamente, anzi la pretendono anche. Grazie Berzi. Grazie a voi. All'unico prossimo. Ciao, ciao.